Buonasera amici e benvenuti all'inaugurazione della nuova struttura del Buon Pastore gestita dalla omonima associazione sportiva del Buon Pastore, qui sorgeva tanti anni fa un campo storico che è stato calcato da tantissimi personaggi del mondo del calcio siciliano e palermitano, alcuni dei quali ci hanno fatto l'onore di essere qui e tra poco li presenteremo e poi ci sarà ovviamente una serata che si svilupperà attraverso ricordi tra passato e presente, ma il presente intanto ve lo presento perché qui accanto a me Stefania Scordio, collega che assieme a me condurrà questa trasmissione perché vi ricordo che va in onda in diretta sul circuito Fil Rouge, potete già chi ha il telefonino sintonizzarvi su Fil Rouge.it e seguire in streaming la diretta che verrà anche replicata domani. Stefania. Grazie, buonasera, grazie Antonio. Io sono particolarmente emozionata di essere qui stasera perché diciamo che da bambina ho percorso qualche passo anche qui al Buon Pastore, poi per anni è stato chiuso, adesso la riapertura è motivo di orgoglio per il territorio e anche per tutti i piccoli giovani talenti che vogliono affacciarsi al mondo del calcio. Quindi un applauso va a chi si impegna ogni giorno proprio su questo obiettivo. Una bella sfida appunto trasformare questa struttura come vedete in un impianto modernissimo. Allora io vi presento subito in scaletta gli amici che ci faranno compagnia nel corso di questa trasmissione, di questo momento di intrattenimento che vi dico subito sarà soprattutto all'insegna dell'amicizia e della convivialità. Gaetano Sconso, li dico proprio così, velocemente in ordine sparso, Mario Oddo, Gaetano Terrasini, Pino Caramanno, Santino Nuccio, Carmelo Buongiorno, poi ci sarà un momento di intrattenimento e poi proseguiremo con... Poi proseguiremo con Maurizio Miranda, Pietro Ruisi, esponenti storici del Palermo Calcio, Piero Dell'Orzo, Stefano Saitta, Fabio Cardella, Dino Corvo, Giorgio Perinetti e Dario Bacin che ci verranno a trovare in chiusura. A questi aggiungo e ringrazio anche Giuseppe Serio, consigliere regionale della FIGC e anche Natale Casisa che è un nome storico del calcio come tecnico, come allenatore che non ha certo bisogno di presentazione. E allora cominciamo subito con la prima parentesi, con quello che appartiene sicuramente alla storia e ai ricordi di questo campo, ma non solo di questo campo, un po' della storia del calcio palermitano, permettetemi di presentarlo come il mio maestro Gaetano Sconso. Gaetano Sconso per anni capo servizi del giornale Lora e direi con un record che forse credo pochissimi giornalisti possono vantare quello di essere stato contemporaneamente una grande firma del giornalismo ma anche tecnico, quindi ha visto il calcio un po' da tutti e due i versanti. Ebbè sono esperienze importantissime che servono nella vita, non sono glorie però. Allora un brevissimo ricordo del vecchio Buon Pastore, avevamo anche una cherelle su quale squadre ci giocavano Juve Sicilia, Olimpia Don Bosco, Maddaloni? Beh i ricordi naturalmente si offuscano quindi può darsi che prendiamo qualche cantonata, però devo dire che qui ho visto giocare per la prima volta Parisi che poi è diventato terzino nel Palermo e anche in altre squadre e ho visto giocare una serie di ragazzi che hanno fatto carriera, quindi bene o male era un terreno fertile. Anche loro per le caratteristiche appartengono alla storia di Palermo, del calcio di Palermo sin dalle midolla e quando farò i nomi subito ricollegherete ad un momento veramente storico, fulgido, quella della riedizione, della rifondazione del Palermo. Chi era il tecnico di quel periodo? Pino Caramanno. Buonasera, mettiamo gli ospiti al centro, così possiamo chiacchierare anche quello che è stato l'artefice, chi di voi ricorderà quando il Palermo venne radiato e ritornò partendo direi da quella che era il cuore pulsante di questa città, cioè dalle forze imprenditoriali, si formò un comitato, il famoso comitato pro Palermo, iniziando ricordo dall'AC2 perché il Palermo venne radiato quando era in Serie B, era l'anno di grazia 1987-88 e il presidente o comunque uno degli esponenti, adesso me lo dirà a lui, di quel famoso comitato pro Palermo che ha ridato ossigeno ad una realtà che sembrava definitivamente defunta era Mario Otto. Grazie a Mario e allora vogliamo ricordare questo famoso campionato 87-88 della riedizione e naturalmente contemporaneamente anche qualche ricordo che avete personale del campo del Buon Pastore. Pino Caramanno che era appunto l'allenatore, voglio ricordare solamente alcuni giocatori di quel Palermo, Pappalardo, Carrera, De Sensi, Di Carlo, Manicone, Santino Anuncio che ringrazio perché è dovuto andare via proprio adesso, anche lui è stato protagonista di quell'anno. Ma io più che del mio passato vorrei parlare di questo presente perché il mio passato è presente c'è questa magnificenza, comunico che a fronte di 6 milioni di praticanti di calciatori ci sono solo 3.500 che sono deputati al professionismo, quindi queste iniziative servono per salvaguardare chi non è professionista, chi non arriva nei tempi a essere professionista, quindi c'è una valenza sociale immane, immensa questo, quindi io quando mi chiamate a questi raduni, compartecipo veramente con piacere perché individuo in questo un'opera sociale enorme, quindi più che compiacersi di quello che è stata la mia attività, mi compiaccio diciamo di quello che sarà l'attività futura di quest'ambiente dove c'è la salvaguardia dei nostri giovani. E allora a questo punto un complimento va a chi sono gli autori, gli artefici di questa struttura di questa realizzazione, ripeto fino a pochi mesi fa questo era un campo abbandonato che era anche ricettacolo dell'incurio a un po' di tutta la città e questa è la società storica perché è un'affiliazione della Polisportiva Calcio Sicilia, dei presidenti Zito e Manno che non vogliono apparire, ma sicuramente invece Mario avrà legato al suo ricordo calcistico qualche momento qui al Buon Pastore. Beh io innanzitutto desidero fare un sentito complimento per l'organizzazione di questa struttura e un augurio a tutti i ragazzini e ragazzi che vi partecipano, con l'augurio ovviamente che possa nascere qualche campione. Poc'anzi ho rivisto con piacere il mister Caravano e ho detto siamo alla soglia di trent'anni fa quindi mi fa ringiovanire di trent'anni. È stata un'esperienza meravigliosa, quando il Palermo è stato radiato l'imperativo categorico è stato non piangersi addosso, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo costruito anche noi il piccolo tassello perché al di là del fatto materiale della raccolta del 10% del capitale è stato un gesto simbolico e siamo onorati ancora ce lo scriviamo come tifosi nel nostro biglietto da visita abbiamo dato un piccolo contributo alla rinascita del Palermo. La dimostrazione è che la Palermo sana quando vuole reagisce e sa come reagire. Allora ma un aneddoto, qualcuno legato al Buon Pastore, maestro Sconso, me lo vuoi ricordare questo campo che sicuramente credo assieme a pochi altri rappresenta anche emblematicamente la storia del calcio amatoriale, quello di base? Io ricordo, anche perché ho qualche decennio di anni in più, quando questo campo da questa parte era circondato da un recinto tipo gabbia di galline e non c'era la strada e si entrava da via Pietratagliata dove il parcheggio era impossibile perché c'entravano 5-6 macchine, gli spogliatoi erano lì sotto, erano molto piccoli però erano agevoli e il campo aveva però delle dimensioni massime rispetto ai campi in terra battuta per cui si poteva giocare al calcio, sempre adattandosi alla terra battuta. Ecco allora tra poco entreremo anche in qualche dettaglio tecnico, vi descriveremo un po' come è fatto questo impianto, io ringrazio Gaetano Sconso, maestro di giornalismo, memoria storica del calcio palermitano, il collega e amico Mario Oddo e naturalmente il grande, lasciatemelo dire perché Pino Caramanno ha un passato che sicuramente è corposo, Vicenza, Foggia, squadre importanti per il tecnico che ha riportato il Palermo, è stato l'inizio poi della risalita. Grazie, grazie infinite e visto che siamo tra passato e presente, ora Stefania ci presenta quello che è un po' il passato della polisportiva calcio sicilia che abbiamo detto è un po' la capostipide, quella che ha dato il là poi alla realizzazione di questa struttura. Sì, lo dicevamo in apertura, il Buon Pastore riapre e viene restituito al territorio, territorio che ha bisogno di realtà come queste proprio per lanciare i talenti. Ricordiamo che il Buon Pastore ha una storia alle spalle, grandi squadre hanno giocato anche su questo campo, ricordiamo la Juve Sicilia e Olimpia Don Bosco. Quindi intanto con un calorosissimo applauso accogliamo qui davanti alle telecamere il segretario della polisportiva calcio sicilia, Gaetano Terrasini. Abbiamo iniziato veramente con i ragazzini, d'altra parte io sono un ventenne quindi non posso che avere come amici dei miei coetanei, no? Allora Gaetano Terrasini è il passato presente ma anche il futuro della polisportiva. Anche tu un ricordo che hai di questo campo perché sicuramente nella tua pluridecennale attività avrai giocato o come giocatore o come dirigente avrai presentato qualche squadra qui al Buon Pastore. Certamente. Quindi io ripeto sono il segretario della polisportiva e per stare emotivo sono venuto a conoscenza di questo campo del Buon Pastore che venivamo a giocare con le squadre allievi o giovanissimi provinciali. Di conseguenza era un campo chiamiamolo mal combinato sia come strutture spogliatoie e tutto quanto però ora è una realtà bellissima e che si sta presentando con molta accoglienza. E allora qui una scuola calcio poi naturalmente ce lo dirà meglio il direttore tecnico però si aprirà una scuola calcio per bambini. Spiegaci brevissimamente come verrà strutturata, a che età avranno i ragazzi che calcheranno questi calci. Come la polisportiva calcio di Sila apriremo una scuola calcio qui dei bambini dai 5 ai 14 anni e quindi faremo del nostro meglio per portare avanti anche questa struttura. Per esigenze tecniche mi dicono dalla regia se possiamo spostare l'ospite al centro, soltanto questo. Allora Gaetano, l'ultima domanda a Stefania. Adesso abbiamo le immagini, i telespettatori stanno visionando le immagini di questo pomeriggio, quindi i giovani, i giovani e lo sport, abbiamo bisogno di queste iniziative, quindi un ringraziamento, ma un ringraziamento va anche alla passione che voi avete per i giovani. Certo, molti giovani sono usciti fuori dalla nostra polisportiva e quindi speriamo di continuare su questa fasta riga. Comunque ne parlerà molto ampiamente il nostro direttore sportivo. Buongiorno. Bene, grazie, grazie a Gaetano Terrasini. Voglio ricordare, l'ho detto che è la madre di questa struttura, lo ripeto ancora, la polisportiva calcio Sicilia con 5 campi di calcetto, un campo omologato dalla FIGC e a proposito di FIGC abbiamo qua i massimi esponenti istituzionali della federazione. Io sto un po' sconvolgendo la scaletta e me ne scuso anche con Stefania, ma vi presento due esponenti della federazione gioco calcio. Sono Dino Corvo, che è il presidente provinciale della FIGC, alla mia sinistra. Resti pure lì che ci sarà Stefania, poi a sentire invece Giuseppe Serio, che è consigliere regionale. Che cosa significa Dino, ex arbitro, non lo so se è una macchia oppure un onore, scherzo naturalmente, cosa significa avere una struttura in una realtà come questa? Parlo anche dal punto di vista proprio geografico. Ma intanto voglio specificare, questa è la mia prima uscita pubblica da quando dal primo luglio sono stato nominato delegato e sono davvero felice di questa coincidenza, che la prima uscita pubblica coincida con l'inaugurazione di una struttura che deve rappresentare un punto di partenza data la situazione impiantistica a Palermo che conosciamo tutti. E siamo talmente sensibilizzati a questo in delegazione che istituiremo uno sportello tematico proprio per supportare società e per collegare società, enti territoriali, istituzioni come Coni e Credito Sportivo, creare una rete virtuosa che consenta a chi vuole, come Enzo Zito e Nino Manno, prendere le iniziative importanti come queste e di condurle a termine con efficacia. Non è una follia in un momento di crisi come questo aprire una struttura così importante? No, credo che sia invece la capacità di vedere quello che ci sta dietro la difficoltà di oggi. L'impiantistica sportiva è all'anno zero, qui al contrario di altre realtà territoriali del centro nord Italia e credo che riallinearci allo standard italiano sia il minimo che ci possiamo aspettare. Quindi la FIGC in quanto istituzione sportiva spinge e sostiene queste nuove realtà in un momento di crisi quando la crisi può diventare davvero un'opportunità? È un'opportunità sia per quanto riguarda la devianza minorile che esiste purtroppo. Io come ex presidente del settore giovanile faccio il medesimo nel lavoro che folgono questi signori che realmente fanno tutto il possibile per poterle portare avanti lo sport. Io voglio dire solo questo, porto il saluto del mio presidente che per motivi logistici perché anche noi ci siamo trasferiti nella nuova sede di Carazzi e di Santino Lopresti e nello stesso tempo do alla struttura un crest del nostro comitato. Grazie, allora per questo riconoscimento da parte della federazione della Lega Nazionale Direttanti grazie Dino Corvo e Giuseppe Serio a nome della FIGC ne approfitto anche per ringraziare e poi li sentiremo l'ex presidente Stefano Saitta e Fabio Cardella vicepresidente. Adesso cerchiamo di conoscere meglio la struttura dell'associazione sportiva Buon Pastore ripeto affiliazione della polisportiva Calcio Sicilia con... E facciamo quindi quattro chiacchiere con il direttore dell'area tecnica Calcio Sicilia Carmelo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buonasera. Meno male perché buongiorno l'ho intervisto sempre di giorno ed è difficile di sera almeno posso darti un altro tipo di saluto. Allora, ricordiamo intanto tecnicamente il Calcio Sicilia che appunto abbiamo detto è la madre di questa struttura e poi quali sono le caratteristiche invece di questi campi del Buon Pastore. Beh, intanto, buonasera a tutti, vedete, prima di parlare di come verrà organizzato il lavoro vedere il glorioso Buon Pastore così impreziosito e ingiorellato stasera credo sia una forte emozione per tutti quanti. Qui stasera ci sono sicuramente tanti della mia generazione me compreso che hanno giocato su questo campo che è un campo storico, un campo dove sono passati tantissimi bravi giocatori e quindi per noi stasera il taglio del nastro è stato un'emozione fortissima. Questo grazie all'impegno, al sacrificio economico soprattutto dei miei presidenti ai quali va il ringraziamento ufficiale. C'è stato un signore di una certa età poco fa che uscendo ci ha fatto i complimenti e ha voluto sapere che erano gli autori e alla fine ha detto ma siamo a Palermo? Sì, siamo a Palermo. Ci sono questi folli. Esatto, e questa è la dimostrazione che anche in una città così talmente ridotta male per certi versi possano venire fuori questi gioielli e quindi rinnovo i ringraziamenti ai miei presidenti. Per quanto riguarda quella che sarà dal punto di vista dell'organizzazione l'ASD Bonpastore sarà una società costola del calcio di ciglia che comunque camminerà per proprio conto. Abbiamo messo un responsabile tecnico che fra poco intervisterete che è Piero Dell'Orzo e è aperta a tutti i ragazzi dai 5 ai 14 anni. Cercheremo di produrre il massimo delle nostre energie fisiche e mentali per poter portare avanti oltre alla già rinomata polisportiva calcio di ciglia anche l'ASD Bonpastore. Ecco, proprio su questo punto volevamo soffermarci. ASD Bonpastore nasce quindi una nuova squadra una squadra di giovani che si spingono verso il futuro. Sì, nasce una nuova società di fatto che sarà affiliata indipendentemente dal calcio di ciglia ma che sarà, ripeto, una costola e gemellata fortemente con la polisportiva calcio di ciglia. Faremo una squadra giovanissima e sperimentali e a scendere tutte le categorie esordienti, pulcini e primi calci. Speriamo che l'enorme sacrificio venga ripagato da un numero elevato di iscritti ma già abbiamo sentore e proprio abbiamo toccato in maniera tangibile il fatto che molti bambini vogliono venire a giocare qui a Bonpastore. Grazie mille, grazie per il vostro impegno. Grazie, grazie a Bonpastore, buongiorno. E allora adesso in attesa poi di parlare appunto con i nuovi ancora tantissimi ospiti intanto ringrazio perché ci hanno raggiunto Dario Baccin che è responsabile dell'area tecnica del Palermo nonché direttore del settore giovanile è un personaggio che non ha bisogno di presentazione Giorgio Perinetti che per questa città ha rappresentato e rappresenta ancora tantissima che tra poco sentiremo al nostro microfono ma intanto credo che sia forse il momento di cambiare un po' rotta e di rilassarci. Eh sì, è il momento di rilassarci un po' non che non sia stato rilassante perché è stato molto interessante parlare di calcio, parlare del presente parlare del passato e quindi anche del futuro ma adesso alleggeriamo un po' con un giovane del cabaret siciliano, lo abbiamo e ne abbiamo parlato prima a telecamere spente lui è giovane dentro è giovane nel cuore e adesso infatti io lo vedo lì dietro le quinte lui sta parlando con altre tanti giovani quindi è un vulcano di energia lo chiamiamo qui davanti le telecamere un po' anche all'improvviso perché penso che in questo momento neanche se lo aspetti Gino Carista Lo strappiamo, lo strappiamo arriverà con passo atletico per essere in perfetta assonanza eccolo, io l'avevo detto che era un vulcano d'energia Gino, a te palcoscenico questo popolo straordinario per dare l'attrezzo, l'attrezzo bisogna dell'attrezzo insomma perché vista l'età Ora è massimo perché l'ho consegnata Lo dai a me, lo dai a me se vuoi, se è pieno me lo dai Io non mi fido di nessuno Vabbè vediamo Intanto prendi, sistemati e tra poco sentiremo daremo spazio a Gino Carista per un momento di cabaret sicuramente divertente poi ripeto tanti altri ospiti Pietro Ruisi, Piero dell'Orso i già citati Giorgio Perinetti Dario Baccin Natale Casisa ci ha raggiunto anche un altro ex Rosa Nero Totò Aronica insomma li sentiremo un po' ripeto Insomma una scaletta abbastanza ricca intanto noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo qui con il nostro Gino Carista Tutti chiedono cos'è Phil Rouge Phil Rouge è opportunità per le aziende per gli enti per i giovani Phil Rouge è formazione crescita Phil Rouge è eleganza bellezza Phil Rouge è spettacolo stile Vuoi il tuo evento in diretta streaming su Phil Rouge TV? www.phillerouge.tv la tua web tv Ritorniamo dalla pubblicità e diamo spazio ad un momento un po' più divertente Sì siamo con Gino abbiamo già presentato quindi non c'è bisogno di presentarlo spazio a Gino Carista voglio solo ricordare che al termine di questa trasmissione che ricordo va in onda sul circuito Phil Rouge potete già seguire il streaming ma anche domani in replica daremo apertura lo vedete c'è un ricco buffet e quindi poi apriremo le danze anche con l'aspetto gastronomico ma intanto spazio telecamere per Gino Carista grazie a tutti allora buonasera buonasera a tutti aveva una mattanata che è il signor ho visto arrivare un po' tutti beh si dice così io ringrazio i fratelli Manno mi hanno chiamato loro per fare questa questa miserabile questo miserabile mio intervento ridere è importante lo sappiamo tutti ridere e vabbè qui c'è però il pubblico qua ridere mi seguite la telecamera io ho Bruni io lo faccio quindi non è che ridere è importante una volta dicevano risus abunda finora estul torme tutto sbagliato oggi sappiamo che è contrario oggi sappiamo che è malato che ha con ride ma io non ride perché sono serio no tu non ride perché soffre di humor roide la persona che non ride soffre di humor roide humor che scorre mi spiego la persona che ride attira la persona che non ride respinge la persona che non ride un sieve io oggi sono contento di essere qui che ho incontrato vecchi amici oggi è per il compleanno di mia moglie bello eh è bello quando c'è questa ricorrenza la moglie fa il compleanno però attenzione non deve essere una festa per la moglie e una pannelletta per il marito vi spiego meglio io abito io abito in zona San Martino delle Scale ci abito da poco io come tutti voi palermitano ho le mie abitudini io alle sette e un quarto mi sveglio prima che vado a letto alle tre di notte vado in cucina a montare la cafettia mi ravi i denti faccio colazione e poi ciugnato la passata stamattina entrando in cucina all'unico del prima cottura ho notato una sagoma ho avuto paura no perché per ora se avete letto il giornale a San Martino rubano vanno nelle lette c'erano le persone anziane sole ammazzano le legnate e ci rubano l'oro ma ammazzano le legnate io ho preso un cartello andate in quale per letta c'è una donna sola messo oggi un giorno io un giorno e fu trovata per l'occa poi ci ho notato questa sagoma ho avuto un po' di paura ragazze ma che è questa ieri sera non c'era mi sono strofecciato gli occhi e l'ho guardata questa sagoma si muoviva brillava ma che è aggiungendo la luce era mia moglie era mia moglie con un vestito di paillette che brillava uno spacco ricordo c'erano 9G un altro spacco ricordo le rine ce l'avevano le incenaghi una sigaretta di 20 cm di scappio coprolungo che a secca si sbennava buona buona i capelli fatte e la guardava e mi fa che tal brunello come che tal ma come sono combinata vestita di casa quando si rimane come te via dice oggi è il mio compleanno ah c'è il tuo compleanno che hai fatto l'ho sei dimenticato ma sono le 7 e 4 ancora per fare colazione e mi resta un'altra cosa fai schifo le ho detto cosa dobbiamo ricordarcele le mie passano dimenticatoio ma chi può fare un processo all'intenzione sono le 7 e un quarto fammi fare colazione piuttosto se mi ho compri albergo che me fai le 7 e un quarto c'è un'altra cosa dove fai le ricchine dice ora ci si pitu sono già ricche no no perché io mi chiotto sapete è una cosa una cosa che io non immaginevo mai di fare questa attività io non immaginevo mai di fare ma mi sentite io non immaginevo mai di fare l'attore signore che ho fatto a fare il comico io ho fatto anche l'attore impegnato l'ultimo spettacolo non immaginevo mai di fare l'attore perché ora mi avrete bella che è no mi avrete bella l'etizio scusa se mi avete amolato faremo un po' di musa su voglio dire ora mi asciugno ecco quando sono attoria alla clinica marchese signora parlo con lei mi può capire in enotologia all'università i vociano qua i tiri la fleciuzza ma se vociano non è via ma forse vengono all'ospedale ma che è successo non lo sappiamo nella stanza dei dottori non ce la metto in mano la filmeria dice ieri il ferro mi avete chiamato la messina si sta io stavo facendo le carte insomma ora sto metto con ciò va a 10 io non ci vado io non ci vado insomma qualcuno ce l'ha a dire spagliaro unisce un dottore e di una mia madre mia madre era in corsia c'è il dottore il bambino il dottore dice il bambino signore dice perché stiamo qua chi fa vettare vettiamo nate dice come vettiamo vetteremo signore ma che è il dottore 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 quanti bambini nascono da l'aria siamo sui e poi te colare l'abbiamo messo assieme altri bambini cucciavano la diarrea cucciavano ci ricapitiamo che siamo cresciuti i picceri dice il dottore ma che è il dottore in questa casa è il dottore dice figlio è vero parola d'onore questo è vero io sono il sedicesimo figlio può essere la casa giusta io abitavo nel quartiere Montegrado a poche l'ipoccia di Mario se sbaglio mi correggo è giusto abitavo nel quartiere Montegrado per sei anni dico vi giuro sul mio candore per sei anni mia madre non mi ha fatto mettere il naso fuori io sentivo il rumore udivo dice mamma fammi affacciare fuori no per amore della gente che sta a te rincia poi fai sette anni dice mamma ma io sette anni il catechismo faceva rincia faceva muratura scrivendo il cocco che era l'aria mi faceva il catechismo rincia dice mamma non ho sette anni no per amore della gente che sta a te rincia mi faceva la comunione la prima media rincia signora facciamo fetti rinchiose dice mamma fammi nascere mi stiamo spuntando i baffi e poi andiamo capendo non c'ho che sei fammi uscire mia madre sei in piacosità perché poi in fondo mia madre prima faccio i dataloni a unire scendere capito che ti avessi fermato per amore della gente non c'è un'errorista peggio sellario anche se te te lì non c'è schifia non c'è un'errorista c'è un'errorista ma c'è un sellario e adesso non c'è un'errorista ma c'è un dottore ora uscendo fuori faccio amicizia con altri bambini con i talli loro non guardano la bellezza fisica giù ma sono tutti sciarriati va bene un giorno mi non piaccio e mi rispettavo ma mi portavo per l'adolianz o questo tuchero ma come mi sono divertito ma come mi sono divertito nelle viali con la bicicletta che avevo tutti buoni mi sbagliavo buoni buoni ma mi divertivo c'erano gli animali ma che... io ho appena tessi animali mi facevo vedere da mattapollo perché non l'avevo visto mai il giorno dopo venivano in auto perciò mi ha messo a portare per l'aggiuro fuori l'italico mi ha messo nel trenino ecco mi ha cattato lo zucchero fuori l'auto c'erano gli animali io ho appena tessi per l'anima mi sono portato male e mi sono portato male e mi sono portato male quindi è vero che ho segnato l'aggiuro ma io ho zio io ho zio mi sono portato mi hanno messo questo sito e mi sono portato a casa poi sono cresciuto 11 anni mia sorella e mio cognato mi hanno detto Gino abbiamo pensato di scrivere a seminario prendiamo i tue io andavo a camminare e prendiamo a prendere un palermo un pietro un pietro un pietro dice un di sei anni non mi avete iscritto a seminario e tu cosa hai capito un'egra venne la seminazione sul stadio a confronto dai padri rogazionisti sapete perché si chiamano padri rogazionisti ve lo dico io perché viene dal verbo rovato ergodomino messo sotto presso e messo mesua le fanno in osciale vero signore ho capito è manco io adesso la minchia dove va ora un pietro da 11 anni che può capire della vocazione che può capire un bambino a 11 anni di diventare parreno oggi si che fa il suo parreno minchia uno suo facesso se ne pagasse stipendi assicurati vieni il tributo i uai le fanno tre messe dopo i uomini passano nuoto il riferimento è casuale e la taxa arriva non c'è stata l'avocazione mi spugliavo però vi giuro sono in infanzia sono rimasto nell'ambito della parrocchia fino a 18 anni ero semplicitata la chiesa preparavo i bambini per la comunione i ragazzi per la cresima un giorno mi chiamavo parreno e mi resta io ti ringrazio per il tuo zelo per il tuo impegno però un po' vieni non c'è la chiesa anni 70 che si è chiettata la mattina la chiesa perché non c'è la chiesa e la chiesa non c'è la chiesa se lo so sono andato da un dermatologo come se c'è una pomata no perché se la chiesa non c'è la chiesa però se non c'è la chiesa ti passano la chiesa e poi non c'è il caso di 7 chiesa perché non mi passa una viene perché la chiesa è una trabante e un io non ti lo posso dire anzi vorrei che tu non ci andassi e allora perché mi riesce a chiesa tappare parreno e allora c'è la chiesa e mi spiega dove ti mandare senta se ci vuoi ti passano la chiesa io io parlavo di chiesa e dovevano più grossi chiamavo uno c'è Totò spiegaci a Gino Gino perché tu hai la chiesa nella faccia sì vieni adesso ti impaliamo tutto a vostra voce tappi chi non c'è se ti passano va Totò sbattisci per l'ora ci sento un quarto signora come passano sentami fai quello che ti dico io ti passano la chiesa questo è un appello che lancio ai ragazzi a sette anni quando hai pegato l'autobus scendo Massimo ti fai la macchetta a piedi appena viva una porta con un campanello e una luce rossa ferma te ci sai che succede? ti passano i bordicchi come sarebbe a dire tu guarda la luce rossa che automaticamente ti passano i bordicchi io non ho dormito quella sera il giorno dopo ti fai pegato l'autobus e c'era di un pezzo di fango il peppo piccolo che aveva l'autobus scendo Massimo mi faccio la macchetta al ritroso è arrivato vicino ai calderai come ho detto qua c'è la palermitana e quara rara c'era un portoncino un campanello che ci ha scritto Sonia la luce rossa è questa maniera questa è la terapia la terapia è la terapia è la terapia 5-10 minuti poi metterla poi se viene l'acqua la primavera è giusto 20 minuti mezz'ora e poi di chi ancora accade quanto fa questa lamparina un'ora guardare la luce rossa come è chiede non riusciva se è accaduta la vista era come cattolata prenotizzata un'ora è mia insattare alla se è mia pur in seduna mi sono spontanea due ore a guardare la luce rossa poi se la prima faccio la signora bionda ascolata e mi disse che aspetta che ha scatto video siamo passati un po' tutti io vedetemi io ho scritto molte cose per ficare il picone io mi ricordo io ho scritto una cosa sapete quando si dice il primo amore non si scorda mai possono sembrare dei luoghi comuni o no signore delle cose così ma è vero il primo amore non si scorda mai perché poi quando si è grandi io ho avuto signora questo amore ma il primo amore è stata una passione ma questo amore mi è stato scippato rubato tolto con molta violenza e poi uscendo dall'adolescenza giovanotte 15 anni 16 anni 17 anni pensando a questo amore che mi è stato rubato scippato ho scritto una poesia se mi permettete ve la vorrei recitare questa l'ho data a figare perché loro l'ho fatta diventare comica ma io la mia signora è prosa è lirica la poesia parta per il titolo La strada the street e loro la taziera questa l'ho scritta pensando a questo amore che mi è stato scippato rubato tolto con molta violenza ve lo devo dire mi sto concentrando signora la catarsi la catarsi lei metta lì a rire mi sto concentrando adesso io ero bambita gli mancava edo la poesia parta per il titolo il papà è la strada pensando a questa amore che mi è stato scippato rubato tolto come l'avienza signora se ne mi guardo non riesco a entrare mi sto prendendo un ghiacciolo adesso comincio da portone di casa di corsa io esco un sospetto il cor massilla il cielo occupa l'angoscia cantava e allora tremante mi mi sa guardare guardo la strada guardo dietro una macchina e non ti vedo guardo sopra il marciapiede e non ti vedo mica un po' rubo rubo e spino cosa aspettavo signora guardi va bene va bene adesso ecco è arrivato è arrivato il signor Manno quindi va bene ci vediamo non so quando ma a come back again ritornerò di nuovo grazie a tutti tornerà tornerà Gino molto estemporaneo così proprio in presa diretta e allora dobbiamo ancora stravolgere caro steve un po' la scaletta perché due ospiti direi gli ospiti d'onore un po' di questa serata che ringraziamo devono andare via quindi li chiamiamo subito ma ripeto poi non andate via perché abbiamo tanti amici di Palermo e del Buon Pastore e allora chiamiamo Giorgio Dario Bacin direttore sportivo del settore giovanile del Palermo responsabile e Giorgio Perinetti che ripeto non ha bisogno di presentazione e che ha legato un po' la sua storia in tre tornate diverse al Palermo grazie a Giorgio a cui intanto credo di cuore vada una sentita partecipazione perché Giorgio è stato colpito mettiamo Giorgio al centro aspettiamo pure Dario Bacin che preghiamo di mettersi accanto a Stefania gli è andato decisamente meglio hai pazienza la vita capita dicevo che ringrazio particolarmente Giorgio Perinetti che è stato colpito da un lutto veramente drammatico insomma la scomparsa della moglie di Daniela palermitana tra l'altro siciliana palermitana di questo quartiere di questo quartiere addirittura quindi in questo caso direi il legame avremmo fatto molto piacere a non averlo Giorgio comunque dicevamo tre tornate con Palermo iniziata da lontano 93 con Polizzi mi pare allora presidente poi l'Era Sensi vissuta a cavallo degli anni 2000 e quindi con Zamparini quali le differenze di questi periodi e se c'è un ricordo legato anche al buon pastore al Calcio Sicilia sicuramente perché ricordiamo che il Calcio Sicilia è appunto la struttura dove si allenano le squadre giovanili del Palermo ma i ricordi sono tutti belli diciamo il Calcio Sicilia è stato sempre vicino al Palermo abbiamo sempre fatto in modo che fosse vicino al Palermo sono contento che Bacin abbia continuato in questa credere in questa struttura che tra l'altro io pensavo fosse sostitutiva dell'altra invece ho scoperto che è un raddoppio quindi complimenti perché per il calcio giovanile in Italia conta soltanto il volontariato di queste società di base che fanno veramente tanto per i giovani mentre le società di Serie A e le società di Serie B purtroppo fanno molto poco fanno solo assemblee dove litigano per la spartizione di diritti televisivi e nient'altro ai giovani ci si pensa troppo poco però la caparbietà la passione l'amore che queste società mettono per i giovani consentono al calcio italiano di poter avere ancora un futuro un rilancio e credo che ecco nella mia ultima esperienza qui a Palermo una piccola battaglia penso di averla vinta anche con Zamparini non può dire mai di aver vinto devi sempre dire massimo che parigi è quella di poter credere di più nel settore giovanile di investire di più e sono contento che tramite Bacin questa prerogativa sia stata presa da Zamparini e che ci creda finalmente dopo tanti anni in cui forse non pensava di poter avere uno sviluppo per il settore giovanile siciliano che invece è florido fiorente e può essere ancora più valorizzato grazie al lavoro di Dario e tutti i suoi collaboratori quindi speriamo che vada avanti verso questa strada per tutto il resto io l'unica cosa negativa che c'è stata a Palermo nei miei passaggi sono state da tre volte che sono andato via per cui tutto il resto è stato bello magari speriamo di fare poker che non si sa mai nella vita grazie e noi vogliamo ricordare per l'ultimo Giorgio perché è stato l'artefice un applauso ci va è stato l'artefice principale del ritorno del Palermo in Serie A Belotti mi pare che è meritato ma non solo insomma potremmo fare tantissimi tantissimi nomi i giocatori si riguardano sempre quelli che riescono bene quelli che fanno male poi no allora è inutile dire questo uno cerca di lavorare al meglio possibile e qualche volta il lavoro vi l'ho apprezzato qualche volta meno ma non bisogna perdere la fiducia e continuare speriamo che Giorgio sia anche il futuro ma intanto il presente è questo signore che tutti descrivono come una persona veramente affabile gradevole disponibilissima e per quel poco io ho avuto contatto con lui lo posso assolutamente confermare credo che Stefania di recente Dario Baccini è stato eletto direttore del settore giovanile quindi oggi una giornata poi ha fatto una breve affacciata poi credo ritorna a quello che il cuore il cuore comanda verso tra l'altro ecco ho scoperto una cosa di Dario Baccini che non so quanti sapranno nel supercorso per dirigenti sei stato uno dei migliori quattro sei stato plurimenzionato almeno a scuola sicuramente promosso a pieni voti e quindi dicevamo i giovani punto centrale di questa giornata è anche del del tuo ruolo un ruolo di grande prestigio di grande impegno che stabilisce quelle che poi saranno le fondamenta della società ma guarda intanto mi sento di fare i complimenti ai presidenti Man e Zito per quest'opera bellissima per cui siamo qui questa sera faccio i complimenti perché cercano di dare sostanza al calcio creando delle strutture che sono ahimè un problema molto serio in Italia e in particolar modo in Sicilia quindi anche per una società come la nostra avere un appoggio importante come lo è stato in questi anni col calcio Sicilia lo sarà presumibilmente anche con questa struttura è per noi motivo sicuramente di appoggio e di sollievo e quindi faccio i complimenti a loro perché ci credono e stanno investendo e quindi credo che tutta Palermo debba essere grata a loro per le altre cose ringrazio Giorgio per le splendide parole ma oltre a questo anche per gli splendidi insegnamenti che mi ha trasmesso in questi anni in cui abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme che dire il mondo dei giovani nel calcio ha bisogno di tanto lavoro di tanta gente onesta che abbia bisogno di fare bene le cose qua con difficoltà come succede da tutte le parti ci stiamo provando mettendoci l'anima e speriamo di migliorare ancora e di poter dare fiducia e di dare un futuro migliore ai giovani siciliani oggi abbiamo la squadra che è partita per il ritiro e ha 7 giocatori su 25 che sono parte del settore giovanile degli ultimi anni quindi credo che questo sia un piccolo passo significativo verso un futuro migliore anche della nostra società posso dire che finalmente c'è una piccola inversione di tendenza quando c'è Baccine qualche palermitano viene intercettato anche dal Palermo perché la polisportiva calcio sicilia e ci auguriamo anche l'associazione Buon Pastore hanno dato e daranno tanti giovani tante giovani promesse al calcio italiano forse in questi anni un po' meno li hanno dato al Palermo ma credo che appunto ci sia almeno l'intenzione di una inversione di tendenza sì no ma probabilmente prima ci sono state anche delle problematiche che hanno impedito magari che i rapporti fossero fluidi oggi i rapporti sono buoni e quindi è un dovere per una società che lavora a Palermo credere fortemente nella propria terra nei propri prodotti perché non dimentichiamo mai che avere dei ragazzi nostri fatti in casa dà un senso di appartenenza maggiore dà quello spirito importante che noi cerchiamo e che noi vogliamo Ricordiamo che appunto su questi campi su quelli della calcio di cilia e penso anche su questi i giocatori e le squadre del settore giovanile appunto si alleneranno in attesa che non so quando avverrà questa apertura del famoso centro sportivo che Zamparini così fortemente ha voluto ma che pare ci sia qualche intoppo noi abbiamo ottimi rapporti ovviamente ci vedremo a breve per trovare degli accordi per poter continuare a lavorare e collaborare con queste strutture ovviamente la speranza per me ma per tutti i siciliani che il Palermo possa finalmente costruire anche il proprio centro perché darebbe una dimensione diversa a tutto il club non possiamo farlo con Dere Bacci finiamo con Giorgio Benetti un consiglio per gli acquisti Giorgio siamo in pieno in pieno calciomercato il Palermo è impegnato credo nella ricerca di un difensore centrale presumibilmente di un centrocampista di un attaccante che sostituisca Paolo Di Bala un consiglio per gli acquisti da grande esperto è sfuggito Viviani insomma che tu conosci benissimo beh intanto mi hai dato un sacco di notizie sul Palermo che io non sapevo ora ne daremo una con un collega di rotocalcio Michele Sardo che ci darà proprio una freschissima novità del Palermo c'è comunque sicuramente attenzione Di Bala che ovviamente non poteva rimanere ma però Samparini ha sempre investito sui guadagni di un calciatore su altri calciatori quindi dipenderà dai giovani interessanti importanti già dei nomi si sentono sono buoni giocatori e mi auguro che abbiano la stessa fortuna di Paolo e degli altri ragazzi che l'anno scorso hanno fatto così bene grazie grazie a Giorgio Perinetti grazie a Dario Baccin in bocca al lupo per il loro lavoro e ripeto ancora sentite vicinanze al dolore di Giorgio per la perdita della moglie allora scusami cambiamo ancora una volta l'ordine cambiamo ancora una volta perché in attesa di vedere e sentire due personaggi due ex importanti vorrei dare interessi privati scusate in atti d'ufficio perché tre colleghi a cui mi lega una vicinanza lavorativa e d'affetto che è ormai di lunga data e sono Alberto Giambruno Michele Sardo e Tony Danna che conducono trasmissioni televisive con loro intanto la notizia partiamo la notizia che Michele Sardo rotocalcio.it ci dà di un acquisto praticamente ormai fatto dal Palermo si ha firmato mezz'ora fa si tratta di Gaston Brugman ma a breve firmerà anche il danese che non so pronunciare per la notizia ci penso sempre si chiama Chiele Mark lui è bravo nelle lingue diciamo anche Alberto dico comunque si tratta di un regista il famoso regista di cui il Palermo aveva bisogno e di cui sentiva la mancanza mi sarebbe piaciuto sentire anche il parere tecnico di Perinetti però aveva un po' premura insomma gli abbiamo fatto una domanda che ormai non serve più visto che già siamo attrezzati allora dicevo rotocalcio.it Alberto Giabruno Rete Palermo collega è inutile nasconderlo con me di tante battaglie su sette gol dei lunedì mattina alle sette che le vataccia brevissimamente i programmi tuoi per il futuro? i programmi sono quelli insomma che conosciamo intanto partiremo in breve con la trasmissione relativamente al ritiro in televisione Rete Palermo è un portale che ci sta dando tante soddisfazioni per cui invitiamo tutti gli amici a seguirci e poi qualcosa altra la puoi svelare anche tu successivamente insomma in attesa e sperando che ci lasciano lavorare perché è notizia di questi giorni che ormai le televisioni private come dire c'è quasi uno sterminio dal punto di vista della possibilità lavorativa visto che non ci consentono più neanche di trasmettere le interviste delle conferenze stampa che sono state acquisite dai grossi dai colossi della televisione e quindi sembra quasi che si voglia mettere il bavaglio all'emittenza Tony e allora un collega lui conduttore di rotocalcio quali sono le sensazioni per la prossima stagione? le sensazioni sono assolutamente positive se ci rivolgiamo al Palermo Calcio perché come diceva Michele Brugman è un acquisto importante Ielemark si concretizzerà e lo sarà e la società poi puntellerà ancora la rosa con un difensore centrale qualche nome lo abbiamo ma ovviamente appena qualcuno fa i nomi è l'attaccante scusate è lì che e lì abbiamo Bellottino c'abbiamo Cassini c'abbiamo Traikovsky giovani sui quali punta molto Iachini si puntava a Caglieri del Boca ma lì c'è una corsa al rialzo il mercato finisce come saprai sognò preibito e sì gli attaccanti poi si prendono alla fine purtroppo però insomma abbiamo già in casa dei buonissimi talenti qualcuno già conosciuto come Andrea e qualcuno altro che esploderà sicuramente per quanto riguarda invece le impressioni future provano a metterci il bavaglio le grandi emittenze perché ormai dobbiamo chiamarle così le loro emittenze provano a metterci il bavaglio noi nel nostro piccolo abbiamo la possibilità per splendidi colleghi che ci onorano della loro presenza ogni volta che li chiamiamo ex giocatori del Palermo che grazie al lavoro che abbiamo fatto con Rosa Nero Storia vengono sempre volentieri a raccontarci il passato ma a descriverci anche il presente e poi insomma qualche bella ragazza di tanto in tanto ce l'abbiamo anche noi quindi le trasmissioni vanno assolutamente viste Rotocalcio è in progress per offrirvi ancora un prodotto all'altezza del suo nome grazie grazie a Tony Danna e Michele Sardo di rotocalcio.org Alberto Gianbruno di retepalermo.it siamo ormai alle battute finali di questa presentazione abbiamo ancora un esponente importante dell'associazione Buon Pastore sì lui è il responsabile tecnico SD Buon Pastore Piero Dell'Orzo che è anche un ex giocatore del Palermo con una brevissima si parlava a proposito Piero qua al centro tra me e Stefania si parlava appunto di giovani tu hai avuto il tempo di assaporare l'area del Palermo e poi hai seguito altre strade sì io ho fatto sette anni nel Palermo da a tredici anni sono andato con i giovanissimi e poi fino alla prima squadra con il mister Morge quindi ho vissuto tanti anni e allora quindi dalla tua esperienza presso il Palermo Calcio guiderai i più piccolini da ora in poi all'SD Buon Pastore sì sì sicuramente sarà una bella esperienza poi qui intanto ringrazio i presidenti il direttore Buongiorno che mi hanno voluto per questa nuova struttura ricordiamo che questo è un i presidenti hanno fatto una grande cosa riprendere questo questo campo che è un campo storico il campo del del Buon Pastore hanno creato una struttura che veramente fa invidia a tante società Polisportiva Calcio di Sicilia e Associazione Buon Pastore sono un marchio di fabbrica quindi sei ormai lanciato nell'Olimpo del Calcio perché chi passa di qua poi fa fortuna ma ci descrivi un attimo questa questa bella struttura dove abbiamo detto si farà sia Scuola Calcio e verranno ospitate anche alcune squadre del settore giovanile del Palermo sì sicuramente allora intanto verrà fatta Scuola Calcio i bambini prenderanno dai 5 ai 14 anni e poi una cosa bellissima ospiteremo anche delle categorie del Palermo del Palermo Calcio quindi si creerà questa sinergia che che vada dura da tanti anni con il Calcio Sicilio e il Calcio Sicilio ormai è una realtà che veramente è una società che a livello direttantistico è una delle migliori in Sicilia soprattutto la squadra sono i giovanissimi del 2002 che sembra che siano fortissimi i giovanissimi del 2002 noi gli tocchiamo al direttore Buongiorno che è legato a questa squadra accresciuti veramente con tanto lavoro e sacrificio a prescindere da parte loro tutti veramente perché questa società ogni anno veramente sforna dei talenti che vanno a finire poi ricordiamolo a squadre importanti Empoli Fiorentina Uinese mi pare negli anni negli ultimi anni hanno dato Rizzo al Torino Montaperto all'Empoli ultimamente Giuliana alla Cremonese questi sono degli esempi ma ogni anno veramente molti ragazzi vanno a fine nei professionisti grazie Piero grazie a Piero dell'Orso responsabile dell'area tecnica dell'associazione sportiva Buon Pastore del quale appunto oggi stiamo celebrando ovviamente adesso è il momento del buffet quindi la gente ha un po' allentato la presa ma abbiamo ancora degli ospiti abbiamo ancora degli ospiti ma prima ci fermiamo per qualche istante di pubblicità a tra poco tutti chiedono cos'è Phil Rouge Phil Rouge è opportunità per le aziende per gli enti per i giovani Phil Rouge è formazione crescita Phil Rouge è eleganza bellezza Phil Rouge è spettacolo stile vuoi il tuo evento in diretta streaming su Phil Rouge TV www.phil Rouge.tv la tua web tv ed eccoci al centro sportivo Buon Pastore io e Antonio siamo in attesa dei prossimi ospiti parleremo ancora con due personalità della FIGC quindi parleremo ancora di calcio prima di salutarci siamo veramente ormai in chiusura e finiamo in bellezza sempre sul versante istituzionale con Stefano Saitta che è stato uno dei bracci armati della federazione del settore giovanile in questi anni Stefano ci può raggiungere in postazione e poi Fabio Cardella il vicepresidente e sempre se sono presenti perché ormai siamo ripeto nel finale c'è un clima gioioso ma di smobilitazione se ci sono Toto Aronica e Pietro Ruisi che sono sicuramente due pilastri importanti che hanno collaborato in passato con sia con la polisportiva calcio Sicilia che con l'associazione sportiva Buon Pastore ovviamente che è ancora in fiere e quindi un work in progress nel frattempo continuiamo e nel frattempo ringraziamo anche la diretta streaming di filrouge.tv in questo momento possono seguirci non soltanto dal nostro territorio non soltanto da Palermo ma in tutto in tutto il mondo quindi la potenzialità e la forza del web con filrouge.tv per seguire l'inaugurazione del centro sportivo Buon Pastore quindi ringraziamo tutta la troupe di Filrouge a cominciare dal regista il coordinatore Carlo Valenti che ci ha dato una mano veramente preziosissima l'ha fatto con grande passione perché speriamo di iniziare anche da qui un nuovo modo di proporre il calcio facendo vedere il calcio giovanile in diretta visto che ormai la tecnologia facilita l'approccio con costi che sono assolutamente abbordabili allora mi pare che ecco Stefano ecco c'è voluto personaggi importanti dice quando la lotta si fa dura i duri vengono fuori Stefano Saitta detto già presidente provinciale ma presidente possiamo dire sempre impectore perché diciamo che la passione e l'entusiasmo che lui ci mette in questo lavoro mi costa personalmente sono veramente straordinari e io ho visto uscire le lacrime da Stefano Saitta solo per un complimento cosa insomma da altri tempi che oggi sembravo quasi non esistere più Stefano intanto sempre complimenti per il tuo lavoro e vorrei che tu ci dicessi questo centro questa struttura che cosa significa per Palermo in un momento che è sicuramente difficile economicamente socialmente anche per le traversie che il calcio sta in questo momento passando ma credo che una notizia positiva sembra quasi una quando una persona aspetta un figlio tutto intanto ne spuntano quattro campi allora dico è una grande novità e credo che secondo me in questo momento di grande carenza strutturale noi abbiamo tantissimi problemi perché non abbiamo come fare giocare i ragazzi i campi sono proprio quelli che mancano vedere una struttura nuova così gradevole anche fatta bene ti fa pensare diciamo che qualcosa si muove però cosa si muove qualcosa dei privati perché senza diciamo le strutture pubbliche che funzionano sempre impianti comunali che mancano dobbiamo sempre sperare negli imprenditori come Zito e come Manno che vanno a fare questo tipo di investimenti ovviamente hanno degli interessi commerciali ma che non sono esenti da slanci ecco ricordiamo che sia il calcio sicile e penso anche l'uomo pastore darà ospitalità magari anche a giovani che non hanno la possibilità di svolgere un corso di scuola calcio io ho sempre definito che lo calcio è un'agenzia educativa come la famiglia la scuola sono luoghi dove bisogna aiutare i ragazzi in una fase di crescita io credo che questa importanza di una struttura così accogliente che dà la possibilità ai ragazzi di fare sport in un ambiente sano in un ambiente che abbia delle caratteristiche attraverso anche dei tecnici che ho visto dei ragazzi io credo che sia importante però ripeto dobbiamo augurare a questa città qualcosa di più io credo che ha bisogno di guardare in un'ottica di una dimensione più pubblica di sinergia tra pubblico e privato secondo me sì perché se no dobbiamo sempre augurarci che ci siano le mani e zitto che mettono sempre le mani a portafoglio loro e questo dico che è giusto che ci sia un imprenditore ma anche è giusto che le ambiziazioni siano più attenti ai ragazzi allo sport e non debbano invecchiare nella speranza che abbiamo una volta il pazzo dello sport che non c'è il campo il centro sportivo di Zampania che non avverrà mai dico sognare ma all'infinito può far male grazie Stefano perché non è uno che le lascia mai a dire abbiamo qualche altra cosa abbiamo magari un altro momento con Gino prima di concludere Stefania tu che coordini diciamo che la scaletta l'abbiamo alterata più volte quindi io non vedo Gino in questo momento non so se era previsto un secondo non ci sono neanche credo sull'andata di via ci hanno lasciato mi dispiace Maurizio Miranda e Pietro Ruisi in scaletta non è previsto un altro intervento quindi ringraziamente ricordando che stiamo trasmettendo in diretta sul circuito Fil Rouge e potete potrete rivedere queste immagini anche nei prossimi giorni sempre appunto su Fil Rouge l'inaugurazione dell'associazione sportiva Buon Pastore in via Pietra Tagliata o via Chinici quindi stiamo in zona Corso Calata Fimi con i campi belli che vedete ricordiamo sono quattro campi due di calcio a cinque e due di calcio a sette ormai la gente ovviamente si è sparsa per i meandri del buffet siamo già in chiusura quindi dal nuovo centro sportivo Buon Pastore Stefania Scordio e Antonio Asaro vi augurano una buona serata grazie a tutti auguri e bocca al lupa all'associazione sportiva Buon Pastore Grazie a tutti Grazie a tutti